E proseguiamo prima del loro intervento di chiusura con Francesca Pugliesi, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Commissione nuovissima, appena istituita e quindi chiediamo alla sua presidente di indicarci un po' come è nata questa commissione e quali sono i suoi obiettivi. Bene, grazie innanzitutto davvero di cuore per questo invito e grazie soprattutto per il lavoro che in tutta Italia state facendo come Soroptimist. Io credo che la sussidiarietà, la capacità di fare rete fra associazioni e istituzioni a tutti i livelli sia davvero fondamentale.